hey la ciao come va spero tutto bene ed oggi sono qui a proporvi un nuovo video unboxing e il video in questione è dedicato ad un gioco da tavolo di nome namiji il prodotto in questione è pubblicato da fanforge e la versione italiana nasce grazie a man calamaro namiji è un gioco da tavolo particolare perché si inserisce all'interno di un macro contesto il prodotto in questione infatti è un gioco da tavolo che è il seguito di un altro prodotto che è probabile che avrete già sentito nominare ovvero tokaido il gioco in questione namiji lo potete vedere più come se fosse una sorta di seguito spirituale di tokaido da cui vengono riprese molte delle meccaniche di gioco namiji è un gioco da tavolo estremamente semplice in cui un numero di giocatori che varia tra 2 a 5 circa devono affrontarsi all'interno della plancia di gioco lo scopo è quello di raggiungere la fine del percorso col maggior numero di punti possibili è quindi un gioco da tavolo dedicato al punteggio ma quali sono le sue caratteristiche oltre al fatto di possedere una quantità di materiali veramente veramente molto elevata parliamo di oltre 120 segnalini oltre 100 carte quindi c'è veramente un sacco di materiale è un gioco da tavolo che è particolare per il fatto di non avere turni namiji esattamente com'è tokaido poi ha un tipo di gioco molto particolare ovvero semplificando tantissimo il sistema namiji prevede che i giocatori devono affrontare quattro sezioni di gioco chiamiamoli round per comodità all'interno di questi round i giocatori devono posizionare la propria miniatura all'interno della mappa la mappa divisa in blocchi ovvero caselle e ad ogni casella è associata un'icona quando si posiziona la propria miniatura che nel caso del video in questione è un meeple di legno ma esistono anche delle varianti del axe di questo gioco con delle miniature super dettagliate quando posizionate la vostra miniatura sulla casella corrispondente si attiva un effetto gli effetti sono variegati possono essere per esempio la possibilità di gestire un sacchetto e pescare da questo per ottenere degli dei crostace o delle aragoste oppure è possibile ottenere delle carte che fanno che composti insieme creano un paesaggio è possibile ottenere altre carte che permettono di ottenere degli obiettivi segreti tutta questa serie di elementi la cosa particolare di tutto questo è che namishi così appunto come dicevamo come tokaito è un gioco da tavolo che non presenta il concetto dei turni questo perché parte sempre l'ultimo giocatore in fila questo è un elemento molto importante perché namishi diventa un gioco da tavolo molto più legato al posizionamento della propria miniatura teoricamente parlando voi poteste anche raggiungere subito la fine del percorso con questa logica che vi sto dicendo ma in questo modo voi andrete a perdere molti punti e molti potenziali bonus che poteste ottenere nel corso della partita di conseguenza è importante capire quanto muovere la propria miniatura quanto poco muoverla al fine permettere al giocatore quindi a voi di prendere i punti dove volete e allo stesso tempo evitare che gli avversari guadagnino più punti più turni è quindi un gioco molto strategico dal punto di vista proprio del posizionamento di sé della propria miniatura al fine di trovare un compromesso tra quelli che vogliono essere i punti guadagnabili da giocatore e tutte le capacità che poi possono avere o meno gli altri giocatori quindi fermare evitare che loro guadagnino troppi punti o situazioni di questo tipo è un gioco da tavolo veramente veramente molto semplice il regolamento è composto da poco meno di otto pagine letteralmente siamo a otto pagine di manuale che spiega letteralmente tutto spiega la preparazione del gioco che può risultare un po complicata può risultare un po lunga la preparazione ma va anche detto che la scatola la struttura della scatola agevola la preparazione del prodotto delle partite e poi appunto sono spiegate tutte le caselle tutti gli effetti delle caselle tutto quello che bisogna fare per ottenere dei punti è spiegato tutto anche in modo molto dettagliato per quanto mi riguarda attraverso un ottimo utilizzo delle immagini una cosa interessante di namishi è che oltre al fatto che presenta uno stile di gioco molto più semplice rispetto a tokaido ma molto più semplice e non sto tenendo in considerazione tanto le espansioni di tokaido ma proprio come approccio è molto più semplice l'ho trovato molto interessante per diversi punti di vista un punto di vista abbastanza interessante è il discorso di come ottenere i punti il gioco infatti prevede tanti modi per avere punti e sono modi molto diversi per esempio potete andare a pescare i crostacei che andate a interagire con un sacchetto e usa meccaniche legate alla fortuna oppure potete decidere di pescare se voi pescate dovete iniziare a posizionare i pesci che voi andate a prendere all'interno della vostra plancia personale per ottenere dei punti esistono anche le offerte la meccanica delle offerte questo perché i giocatori partono con dei malus ai punti e più offerte fanno meno punti perderanno nel corso della partita ci sono quindi tanti metodi per ottenere punti e sono metodi molto diversi questo è un elemento molto interessante anche se teniamo in considerazione la capacità del gioco di essere variabile nel corso del lungo periodo le partite di namiji possono durare tra i 30 e 60 minuti quindi non tantissimo ma neanche poco la cosa interessante è che più volte affrontate questo gioco e più contenuti potreste decidere di gestire in modo diverso magari in una partita da reti e priorità ai pesci in un'altra da reti e priorità ai crostaci oppure potreste dare priorità agli obiettivi segreti oppure all'acquisizione di abilità speciali potete davvero scegliere tanti modi diversi per gestire la partita ed è molto interessante questo mi è piaciuto molto perché mi ha incentivato durante le mie sessioni di prova a provare il gioco e a testare i vari metodi per affrontarlo nel corso di appunto varie strategie vari modus veramente molto interessante secondo me trovo che il gioco fra l'altro è molto piacevole ma soprattutto è anche interessante notare che esiste una variante a due giocatori la variante a due giocatori presenta le stesse meccaniche dell'originale quindi non è che cambi molto l'unica differenza è che viene aggiunta una meccanica in più che è la meccanica della nave neutrale la nave neutrale infatti è una nave aggiuntiva che tutti devono gestire e tutto tutta la partita a due giocatori ruota attorno a questa nave qui quindi quando si possiede la nave neutrale diventa fondamentale capire come posizionare questa nave per ottenere dei vantaggi la nave in questione non ottiene bonus cioè sostanzialmente fa un po da segnalino però è interessante notare come è possibile con questa piccola variabile cambiare un po le carte in tavola cambiare potenzialmente le strategie di namishi per chi volesse saperlo namishi non richiede tokaido quindi non è necessario possedere tokaido ed esistono due versioni una che è la versione che trovate al pubblico è quella che vedete nel corso del video ce n'è un'altra che è una variante deluxe che da quanto io ho trovato tramite appunto informazioni è disponibile soltanto come premio kickstarter presenta questa le miniature più dettagliate non so se viene venduta pubblico non so se sarà mai venduta al pubblico se volete la variante deluxe vi consiglio appunto di fare un giro e di dare un check in merito e controllare se l'app riuscite a trovare perché comunque sia sono miniature più dettagliate sono anche carine quali sono i potenziali difetti della versione base di questo gioco da tavolo allora una cosa che io personalmente posso evidenziare partiamo dalla più facile il fatto che è un gameplay molto semplicistico già tokaido non è che sia questa grande complessità però presentava delle meccaniche un po insolite presentava la meccanica del denaro che qui non è presente presentava diversi elementi che poi sono stati potenziati con le varie espansioni tokaido anche sulla versione base è un po più complesso rispetto da amici questo cosa vuol dire da una parte può piacere perché comunque un gioco da tavolo più semplice anche più facile da proporre a pubblico casual ci sta per chi invece vuole un po un regolamento più crunchy cioè un regolamento un po più succoso un po più complesso namici potrebbe non fare per voi namici è letteralmente un gioco da tavolo che in una decina di minuti riuscite a spiegare a un vostro amico parente conoscente e si parte veramente veramente molto veloce a tale proposito io avrei fatto una cosa che avrei preso ispirazione per l'altro dato kaido ovvero le miniature che voi scegliete non hanno abilità cioè non hanno abilità non hanno bonus non hanno obiettivi niente di tutto questo io nel regolamento avrei proposto una sorta di variante per iniziare nella quale io un'abilità e un obiettivo anche casuali li avrei proposti questo perché non perché namici sia un gioco difficile come ho detto prima è un gioco molto facile ci sono giusto giusto un paio di cose potenzialmente complesse che sono principalmente la gestione del porto quando arrivate nei porti però tutto il resto non è che sia così tanto complicato di namici l'unica cosa che magari avrai fatto è proprio proporre questa variante in cui alcuni obiettivi vengono già dati fin da subito non tanto perché il gioco non è fattibile anzi è più che fattibile namici ma più che altro perché magari i giocatori novizi con un obiettivo già disponibile capiscono già dove poter andare a parare durante l'esplorazione della mappa che è una cosa che appunto io avrei proposto proprio come variante per iniziare cioè proprio variante per novizi anche perché una volta fatto questo diventa super immediato poi tutto il resto e dalla seconda partita in poi non serve neanche avere questo obiettivo aggiuntivo comunque sia personalmente altre cose particolari che si può trattare io parlerai dei materiali ora i materiali di namici sono abbastanza accurati è tutto principalmente basato su carte e segnalini in cartoncino dei segnalini ne esistono di due tipi i segnalini in cartoncino che sono quelli che vengono tendenzialmente usati in tutta la partita poi ci sono i segnalini del giocatore che sono divisi in due ovvero il segnalino miniatura che sono appunto meppoli in legno e il segnalino punteggio che è sempre fatto in legno una sorta di doblone il segnalino punteggio ha sostanzialmente come scopo quello di aiutare il giocatore durante la partita a tenere traccia del punteggio che personalmente ho trovato utile soltanto durante la fine di una partita perché durante la sessione è difficile muovere il doblone all'interno della sezione del punteggio ma per il semplice fatto che rallenta un po' il ritmo il problema è che questi segnalini sono molto piccoli e non vi nascondo mi è proprio successo mi è caduto uno di questi segnalini ho impiegato più di 5-10 minuti a trovarlo perché sono dei segnalini piccolissimi personalmente avrei aumentato le dimensioni di tali prodotti oppure proprio le avrei omesse nel complesso comunque sia secondo me siamo di fronte ad un ottimo prodotto perché è un competitivo molto zen non è un gioco da tavolo dove voi dovrete affrontare gli altri e dovrete costantemente combatterli interagire fortemente con loro togliere carte fare cose di questo tipo in realtà alla fine ognuno gioca la sua partita non c'è interazione tra i giocatori l'unica interazione che è presente è la strategia del posizionamento della miniatura non è complesso non aspettatevi di spendere troppi minuti tra un posizionamento della miniatura e l'altro ovviamente non farei topa pratica in merito ma è proprio qualcosa di molto piacevole personalmente Namiji io lo consiglio pressoché a chiunque credo che darà moltissimo a un pubblico casual più che altro perché è un regolamento molto easy molto semplice in poco tempo si impara tutto quanto secondo me appunto tutti più o meno possono apprezzarlo so che in Italia tra l'altro a fine giugno dovrebbe uscire un'espansione di Namiji in Italia però comunque sia sappiate che oltre al prodotto base quello che vedete nel video uscirà anche un'espansione che amplierà i contenuti quindi se vi piace il prodotto già com'è adesso se volete ampliare la sua complessità se volete aggiungere nuovi contenuti sappiate che usciranno delle espansioni io reputo Namiji un ottimo prodotto e se volete saperne di più su gamescore.it trovate la nostra recensione trovate il link proprio qua sotto nell'info box spero che questo video ti abbia incuriosito se ti è piaciuto ti chiedo di lasciare un piccolo mi piace io sono GbSlacko di gamescore.it gamescore.it è un sito che tratta news e recensioni di videogiochi, giochi a tavolo, adori periferiche datiamo veramente veramente qualsiasi cosa da qui ovviamente questo gioco da tavolo molti altri prodotti come altri giochi da tavolo giochi di cat, videogiochi e compagnia li potete trovare tranquillamente sul sito di gamescore.it noi due spero che ci rivedremo nel corso del prossimo futuro chi lo sa con quali prodotti ci risentiremo stami bene mi raccomando ciao 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 ciao